papà papà ti prego mi compri un pappagallo no ci manca solo il pappagallo in questa casa basta e poi andiamo a vedere il pappagallo poi lo vedo piccolo un pappagallino piccolo così di venti giorni che adesso vi farò conoscere e mi sono innamorato ho preso un pappagallo ma ragazzi io sono riccardo benvenuti nel mio canale youtube oggi vi farò conoscere l'incisole laser con cui ho realizzato la piccola casetta per polli questo è il nome di papper pappagallino che abbiamo comprato si tratta di un inseparabile una piccola pallina di piume e questo è il why lux l6 con un modulo laser da 10 watt e sistema air assist ma ve lo farò vedere man mano che costruirò la casetta insieme a voi ho già eseguito tutti i tagli vi farò vedere ovviamente le varie riprese ma quello che mi preme di più e farvi vedere come con la precisione ottenuta con questo incisore adesso costruiremo questa casetta che ho progettato io interamente su light bar nulla di complicato però mi sono divertito a realizzarla e quindi iniziamo alla casetta di polli quindi è completa ma prima di farvela vedere per bene vi faccio vedere l'incisore laser questo è il why lux l6 con modulo laser da 10 watt è dotato anche di air assist questa plastica nella parte frontale che dovrebbe proteggere dai raggi dannosi in realtà non so quanto funziona questo invece il sistema per poter mettere a fuoco basta girarlo appena tocchiamo la superficie sappiamo che quella è l'altezza corretta per poterlo sollevare basterà girare questo pomellino e poi sollevare o abbassare in base alle nostre esigenze guardiamo anche l'aspetto estetico ragazzi effettivamente nulla da ridire per quanto riguarda il design anche lo stesso modulo è davvero bellissimo la struttura comunque è praticamente quasi tutta in metallo a solo due profili in plastica però per come sono studiati geometricamente la loro posizione permette di avere una struttura molto solida quindi sia questo che questo nella parte posteriore sono in plastica ma svolgono bene il loro lavoro non abbiamo assolutamente cinghia in vista quindi questo rende il tutto davvero molto pulito sia nell'utilizzo che dal punto di vista estetico e questi rossi nella parte laterale sono i sensori di fine corsa nella parte posteriore troviamo il tastino per l'accensione un tasto di reset poi abbiamo anche un ingresso usb tipo a un ingresso usb tipo c e l'alimentazione per quanto riguarda l'alimentazione vera e propria del nostro incisore per quanto riguarda invece l'alimentazione del piccolo compressore va utilizzato un altro alimentatore che viene dato separatamente guardiamo anche il modulo laser dalla parte bassa come vedete abbiamo questo sistema che con voglia l'aria nel punto in cui il laser va a colpire la superficie e anche qui in basso troviamo molta pulizia nel design insomma è stato studiato davvero benissimo il movimento come vedete è su ruote eccentriche quindi scorre su questo profilo con due ruote nella parte superiore ed una ruota nella parte inferiore questa invece è la fascetta che ho tagliato perché stavo strozzando a tubicino e quindi in alcuni punti non fuoriusciva aria ci sono segni di bruciatura nelle incisioni le ginghe hanno già un'ottima tensione sia per quanto riguarda l'asse x per quanto riguarda l'asse y ma nel caso in cui fosse necessario potremmo allentare questa vite e agire con una chiave a blu dalla parte frontale sia per quanto riguarda questa se troviamo lo stesso sistema dall'altra parte che i due assi troviamo il sistema nella parte frontale sui piedini abbiamo una gomma che mantiene il laser ben solido e ben saldo sulla superficie quindi riepita movimenti strani sulla parte bassa abbiamo anche questa piccola antenna che ci permette di utilizzare l'incisore laser tramite il nostro smartphone e allora quindi abbiamo impostato 180 mm al minuto con una potenza del 95 per cento 10 passaggi ma ovviamente se riusciamo a tagliare un pezzo da 10 mm quindi un centimetro diabete allora interromperò prima accendo pure l'air assist ok sperando che i tubi non abbiano alcun tipo di strossatura e diamo play vediamo quanti passaggi ci vogliono per riuscire a tagliarlo allora questo è il primo ancora è perfettamente integro vediamo se riesco a fare un inquadratura da questa parte comunque sembra che già stia tagliando siamo al secondo passaggio forse già tagliato ragazzi forse sì sì si vede che ha già tagliato quindi due passaggi per tagliare va bene interrompo perché per come posizionato non cadrà mai però si vede che è stato tagliato lo porto su home perché manualmente non si può fare ok e guardiamo il pezzo tagliato con due soli passaggi e ora proviamo con 800 mm al minuto 95 per cento di potenza a incidere su questo pezzo di metallo sarebbero sufficienti anche un po meno come potenza però voglio fare solo una prova quindi abbondare meglio che deficere quindi premiamo play e vediamo questi 30 secondi di incisione vediamo cosa riusciamo ad ottenere già io vedo è stata fatta la p la di parkside la squadra della parkside quindi anche sul metallo riesce ad incidere senza problemi però adesso che rimuoviamo il tutto vedremo cosa abbiamo ottenuto vedremo il lavoro completo perché potrebbe essere un impressione ma io ho visto la p e quindi l'incisione dovrebbe esserci e dovrebbe essere una vera e propria incisione perché questi incisori laser sul metallo riescono ad incidere e anche poi grattando eccetera l'incisione non si rimuove quindi ho fatto un'incisione molto fine il metallo è un po caldo ovviamente anche pulendo strofinando graffiando questa scritta non si rimuverà mai più ormai è un'incisione vera e propria realizzata sul metallo quindi ottimo risultato mi piace scusatemi per tutti questi riflessi che non fanno vedere bene il tutto però il metallo riflette la luce però comunque si vede dai ragazzi bellissimo finissimo pulizia d'incisione a livelli altissimi e adesso con 8 mila millimetri al minuto 40 per cento di potenza proviamo a fare questa incisione ovviamente non vi farò vedere tutta l'incisione perché dura 20 minuti ma vi farò vedere a riprese intervallate il risultato che otterrò ovviamente ho attivato anche l'aspirazione fatelo sempre quando lavorate con gli incisori laser evitate di respirare fumi io ho aperto la finestra un ventilatore che spinge l'aria verso fuori più questo aspiratore guardiamo quindi il risultato si intravede qualcosa già da quello che si vede quindi le labbra della signorina che stiamo incidendo sembrano venute bene aspettiamo ancora un poco e vediamo il resto siamo già ad una buona percentuale mi sono reso conto che questa incisione la sto facendo con l'air assist in realtà le incisioni fotografiche andrebbero fatte senza però il risultato mi piace quindi accettiamo la sfida e vediamo come viene nonostante appunto l'air assist collegato che dovrebbe essere scollegato ok lavoro completato ragazzi nonostante l'air assist comunque l'incisione è venuta molto bene guardate i dettagli degli occhi così non si riflette la luce si vede un po meglio perché purtroppo con riflessione la luce le incisioni su alcuni tipi di legno non si vedono molto bene guardate però i dettagli gli occhi i capelli anche capelli più fini perché questo incisore laser questo modulo ha un punto di incisione uno spot di 0,08 per 0,05 quindi molto piccolo anche la velocità e la potenza forse devono essere regolati perché 8000 mm al minuto con il 40 per cento di potenza non è proprio il massimo ma nonostante tutto air assist acceso e velocità elevata potenza ridotta il risultato è venuto molto bene tutti i dettagli sono venuti benissimo quindi buono anche per le incisioni per le incisioni per le incisioni e allora innanzitutto dato che l'incisore laser è già ha finito il suo lavoro liberemo il bancone voglio farvi vedere i pezzi che ho ottenuto e allora abbiamo la parte superiore delle due pareti in cui è raffigurato un piccolo pappagallino la base un pezzo della parte superiore la parte frontale che avrà anche il plexiglass per poter vedere l'interno e poi la parte posteriore questa è la parte che si vede dall'interno quindi adesso vedrete purtroppo utilizzato un compensato un poco imbarcato quindi non tutto combacerà a perfezione ma noi utilizzeremo la colla e quindi non c'è nessun problema iniziamo a mettere i primi punti di colla ne mettiamo un minimo solo per tenerlo fermo dalla parte interna ma poi tutta la colla verrà messa dalla parte esterna come vedete l'incisione comunque è venuta benissimo guardate sia la scritta che i tagli pulitissimi ci sono questi denti che vanno ad incastrarsi con le varie rientranze quindi rimarrà tutto ben fermo e quindi iniziamo a mettere la colla nella parte esterna ovviamente è colla liquida tipo l'attac quindi entra nelle varie fessure e mantiene tutto ben unito non si muoverà più assolutamente allora guardate gli incastri come sono perfetti quindi continuiamo a mettere ancora un pochettino di colla queste tavole sono troppo imbarcate ti lascerò dei link per delle tavole di buona qualità in modo da evitare di avere questi problemi ok già praticamente la maggior parte del lavoro è stato fatto adesso manca solamente la parte frontale nella quale poi metterò pure del plexiglass e ovviamente la copertura che ha un sistema con un'apertura particolare e adesso passiamo al tetto guardate ho progettato un metodo di apertura che a me piace tantissimo ok adesso la struttura è tutta completa manca solo un poco di plexiglass chiudere la parte frontale è ovviamente il tetto utilizzerò gli scarti dei ritagli con forma di cuoricino per poter alzare ed abbassare il tutto perché verrà semplicemente poggiato quindi metto il primo cuoricino ok quindi i cuoricini sono esattamente a metà della superficie quindi poggiando faranno tenere il pezzo esattamente in questo modo quindi avremo il nostro tetto chiuso e da questa parte potremmo vedere il pappagallino eventualmente per sollevarlo si può fare in questo modo e ora tagliamo un po di plexiglass allora ragazzi mi dispiace di non avervi fatto vedere il momento in cui si è staccato mi sono pure fatto male da questa parte perché era semplicemente una prova e mi è rimasto praticamente fra le mani quindi taglio eseguito con il cutter non mi aspettavo nemmeno che venisse così bene se a proposito quasi casi vi farò anche un video su come ho eseguito questo taglio però non adesso e passiamo quindi a mettere questo plexiglass nella parte frontale per la parte frontale e allora ragazzi cosa dire quindi di questo incisore laser come avete visto innanzitutto è bello dobbiamo essere sinceri fatto bene con questa bella console nella parte posteriore per inserire vari slot insomma vari collegamenti con il computer accenderlo eccetera air assist una struttura leggerissima ma fatta bene che non ha scritto lì anche se c'è plastica però effettivamente robusta ma ragazzi devo farvi vedere il risultato finale di quello che ho fatto oggi quindi poso qua delicatamente incisore e vi prendo la gabbietta con il piccolo polli ragazzi il nostro piccolo pappagallino di venti giorni che adesso finalmente alla sua casetta volete conoscerlo per bene da vicino lo faccio conoscere lo tolgo dalla gabbietta apro il coperchio guardate quanto è semplice quindi solleva si prende il pappagallino viene fatti conoscere lo stiamo imbeccando noi ogni tre ore lo facciamo mangiare e questo è il piccolo saluta allora ragazzi va bene cosa dire questo incisore laser funziona bene fate bei tagli fa delle belle incisioni mi ha permesso di realizzare quindi questa struttura questa è questo edificio per il piccolo polli per ospitarlo è riuscito a tagliare anche un centimetro di spessore riuscita a incidere sul metallo e poi incidere su acrilico può tagliare l'acrilico e tanti altri materiali vi lascerò il link se vi è piaciuto così potrete vederlo sul sito del venditore eventualmente se riesco a recuperare anche il codice di sconto ve lo metterò giù nel primo commento nella descrizione così acquistandolo potete risparmiare qualcosina detto questo quindi non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando sul pollice da mezzo cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ciao dallo spennacchiato polli che diventerà un bel peppellino inseparabile azzurro e bianco e ci vediamo al prossimo video ciao da riccardo ea presto